bella a tutti ragazzi siamo tornati e oggi grazie ad un'amica sono riuscito a scoprire che tra il 13 marzo quasi uscito nella nexon coreano si vede nel 13 marzo uscirà il nuovo primo e secondo classaggio di altri su elwi che hanno già messo le foto vediamola in poco questa è la prima classe madonna mia tutto all'ombra tutta l'ombra che tutta ombra questa è la seconda classe usciranno tutte e due insieme come potete vedere le tinamo sono a forma di rumbo in forma di rumbo io oggi ho fatto avanzare il mio fisic tracer lunatic cycle a livello 56 con 21,5 per cento di 23,5 per cento di xp non mi ricordo quanti xp era per il livello successivo comunque era sul 25 per cento comunque uscirà la nuova classe prima e secondo classaggio del secondo campione di classe vabbè qua parla del nexon cache cosa e tutto ho saputo tutto grazie ad un'amica che per motivi di privasi non farò il nome comunque saputo tutto lei ci ha già fatto il video e ovviamente non dirò di quale video si tratta questi sono i commenti ovviamente i commenti che hanno messo le nomi non me ne frega questa comunque è la nuova classe tutto all'ombra prima o poi dovrà uscire penso che la proverò questa nuova classe penso che la proverò perché dopo che hai trovato la prima classe di Atikim non penso che vuoi provarne un'altra vabbè detto questo arrivederci e continuate a seguirmi nel mio prossimo video